Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono i prof. ChannelGG Ragazzi oggi siamo in un gioco abbastanza particolare, Christmas Shopper Simulator E' un gioco non tanto serio come potete vedere, anzi come vedrete Allora intanto possiamo notare la musichetta bellissima, però la leveremo perchè voglio mettere altre musiche sottofondo Quindi andiamo, andiamo a giocare, allora maschio si e start Ok, allora in teoria dovremmo fare delle missioni che in realtà non lo so, ho giocato tipo per due minuti e ho detto ok lo devo portare sul canale No, dobbiamo andare di qua Allora, intanto è svenuta una persona, cavorella Allora, dobbiamo prendere questa cosa, però voglio capire un attimo cosa devo fare Signore, signore cosa devo Aspetta dovrei, dovrei un attimo capire cosa fare Ah, ok, non capivo, io tiro un bel calcio, ho fatto, non ho fatto come Mbappé perchè lui ha sbagliato il rigore Un po' goto Via E cosa, io posso fare questo e altro signore, mi scusi Ma, ma che c***o, ma che succede questa renna Ok, come vi ho detto ragazzi questo gioco è un po' strano Aspetta ma il regalo non l'abbiamo preso, ok Come si fa a prendere il regalo? Eh? Si è proprio No No, ho baccato, no, ho baccato Ah no, ok Cosa devo premere? Ah, ok, devo grabbare E dove lo devo portare adesso? Uh, uh Ok, siamo tipo No, signora No Il mio regalo non mi è piaciuto No, oddio, sto distruggendo tutto No, fatevi andare via Mannaggia a me, mannaggia Adesso che cosa dobbiamo fare? Ah, dobbiamo andare là Sul telefono Che mi sarà Ci sono altre regali da prendere Polar X Express No polar beer Quindi l'orso polare ha bisogno di un jumper Non penso sia Aspetta, non so bene cosa sia Ehm Prendi il più grande Che puoi trovare E vabbè non ho più il letto Che faccio schifo Allora Andiamo a comprare quindi questo Non lo so Jumper E la madonna Come faccio aggrappare No Ce l'ho quasi Allora Ma l'ho preso? Sto pure concentrando a fare sta cosa No No Vai Sì Sì Ce l'abbiamo fatta Levatemi voi Eh, la devo portare Ah, giustamente al castiere Eh, tenga No, ho sbagliato Eh, non sono tanto bravo a basket Leva sta roba Non sono tanto bravo a basket Basket, stavo dicendo Ok, tenga Ok, adesso la devo riprendere Sì Oddio, ragazzi Ce la sto facendo Non sapevo neanche come si è giocato Questo gioco Però ok Ah, di nuovo dalla signora Signora Ecco qua il suo regalo Ah, ok Il suo regalo non è svenuta Strano Hey Tiè, caccia in faccia Watch out Attento No, non sto attento Ma che c***o è sta signora? Ma lei si troga Ma guarda Li distruggo tutto Cioè, ma No, sapete che Ho sentito che ha detto Che babbole d'Ale non esiste Ecco Così si impara a dire ai bambini Che babbole d'Ale non esiste Oh, andiamo Stanno squillando Qualcuno vuole rispondere Sempre io Eh, Lisa Voleva vedere un documentario Sul Anzi, non so cosa sia About Vabbè Come Vabbè Dobbiamo prendere la tipo Più grande che hanno Insomma Andiamo Spacchiamo tutto Signore Ma Ma Lei Com'è successo Perché l'hai svenuto Lo so che sono bellissimo Però non ce l'ha bisogno di svenire Vabbè Andiamo C***o di Gesù Dove andare in cielo Non lo sto capendo Ah, forse Sì, giustamente C'è il piano di sopra Qui ho fatto Ho fatto svenere la persona Per nulla La fine Ma Mi scusi Ma mi sei Ma sono al contrario Ma ha fatto le scale al contrario Ma perché Ah, ecco Ah, ecco Sì, la tv La tv Questa qua va bene No, non mi frega niente Dobbiamo Ah, dobbiamo prendere proprio quella tv Non Non un'altra Provo a fare la cosa più semplice Perfetto Madonna Che muscoli Signore Ecco Quel polso Non sta mai dritto Così No Vabbè Per fare i regali Questo e altro Tra l'altro Quanti soldi abbiamo Per fare tutto ciò Vabbè Non lo so Andiamo ancora Dalla tizia Che dice che Babbole Non esiste Tenga Tenga Beh, in effetti Babbole Sono io Stupida Ciao Niente La devo sempre Far male Ogni volta che vengo Ecco Così si impara Allora Dobbiamo andare Ma basta Sto uccidendo tutto e tutti Ma guarda Scappano tutti E' colpa mia Qualcuno Ha dato un gioco A Craffin Non so E trovalo E Snake out Ok Scambialo con Con cash extra Ok ragazzi Non so La signora Ma che fa Ma che fa Ecco Basta Gioco a calcio Sì Un giocatore A metà anche per me Il mio palloncino personale Vabbè Dai ma se ne vada Non mi prega niente di lei Ah ma ce ne sono Ce ne sono ben due Forse sono gemelle Dai Allora Pensate Dov'è Dobbiamo salire ancora di più Sì Ehm Mi hai chiuso Ah no Vabbè per me è tutto aperto Ciao Salve Come si permette a farmi del lei Questo è catcalling Anche lei Questo è tutto catcalling Ecco Andiamo E' 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 un E' un E' un E' un E' un animale Non vi preoccupate E' Sembra un umano In realtà non lo è Giuro Ok lasciamolo prima che ci sgamino Ehm Ok Ah ecco Un gioco extra Vedi Ok preso Dobbiamo correre Allora aspetti No Ok Non so come ho fatto a tenere quel gioco in mano Penso che No Come si è permesso lei Maledetto Madonna Ti tiro un calcio Madonna Come si è permesso a rubarmi il gioco Era mio Lo so che l'ho rubato Però vabbè Napolisimo lei Dora aspetta Napolisimulator Nanananananananana Corri cazzo Corri Scendi Corri Napolisimulator Nanananananananananananana Tenga Si Ce l'abbiamo fatta E' stato un bel momento Mi sono sentito A casa per due secondi Ecco Ehm Jenny Vuole Non Ok basta tradurre Perché faccio schifo Andiamo a prendere le cose Che vogliono E basta Che fanno questi tre Ok Normalissimo Farlo In un centro commerciale Va bene Allora dobbiamo Ma che cosa vuole Perché fa sempre Ma poi perché divento pelato Aspetta Divento pelato Ecco E' fatta di cartone Cioè E' fatta di cartone Cioè ho solamente saltato Ed è volata via Ma pure lei Signore Ma cosa fa Allora andiamo A portare giusto Giustamente il regalo Ma ancora che ballo Ma basta Mi ha rotto Un grande acquisto Un grande acquisto Comprano Un nuovo paio Di XX Jeans Insomma De XXL Jeans Vabbè Non chiedere il perché Ma fallo Ok Forse perché lei È abbastanza Grosso Che mi sembra che Cosa vuole No Ok Pensavo di morire In realtà Ma che cazzo Ok Non è fatto Pobinissimo Questo gioco Vabbè No È mio Oppela là Signora Cosa Si levi Sorry Sorry Te devi levare I miei jeans Sì Ma fa culo Godo Si levi Salve No Ok Raccoglilo Ok Grazie Adios Ecco lei Ah ma sono 6 su 11 Quindi abbiamo quasi finito Wow Vabbè Assoluto Compediamolo ragazzi Andiamo Allora Ellie Desidera di Vuoi che vorrebbe un panda Non tutti noi Compro lei un panda E mascheralo La testa Per noi No R non so che cazzo C'è un vuol dire Ok no Si levi Madonna Ah vuoi una maschera Di un panda Ecco Adesso ho capito Aspetta L'ho trovato Era nascosto Ok No non ci voglio giocare Dammi quest'altro Grande Grazie Che tra l'altro Adesso sembra un dado Ok Andiamo dalla signora Signora Tenga No Non la prenderà al volo Però signora Cosa mi combina Sorry Ok se ne vada C'è tanto se non l'ho minata Guarda C'è Non in quel senso Aspettate Eh Christmas Sì vabbè Natale ha bisogno di un eroe Catch Trova C'è cattura una ragazza Che vuole Naked Non so che fuggire Vabbè Vuole fare qualcosa di brutto Insomma Andiamo a Fermarla Insomma Oh No Maledetta Au Cioè Ammazza che doppiatori Ok io ne vado prima che lei mi catturi a me Ah ha fatto tipo la napoletana come me prima Insomma Però io sono troppo forte Lei no Venga Ha fatto il poliziotto Cioè Sono passato dal napoletano al poliziotto Ragazzi Ma sono davvero Pazzesco Ok Ehm Auntie Len Continua a pensare che è un orso Perché Trovala Un costume Ehm Che sia Poco costoso Dopo la terapia Ma perché Ma che gente ci sta in giro Ah ecco anche se io Questa qua qua sopra Ok Ci devi Sempre in mezzo sta lei Aspetti Io rompo la fisica Ecco Sì Alleluia Adios Via 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 Porta qua dentro Perfetto Ragazzi ma in questo momento Noi mi sono Abbiamo finito il video Che bello In realtà non penso anche abbastanza seriamente Sto gioco strano Ma stranamente Vabbè Easy baking Ehm La testa del Q store No head Sì vabbè E prendi lo speciale Per il La stanza da letto Vabbè ragazzi Non so molte parole Che sono stupido Cioè non lo studiate forse Non lo studiate forse Non lo tiravo parkour Io odio sto posto Lasciatemi due secondi solamente per fare questo Ma che fa questo Maledetto Mi ha spostato tutto Ha spostato No io un pazzisco Regà Mi ha spostato tutto Magogna una magogna Veloce Grande Allora in teoria è là sopra Quindi Potrò un modo per arrivarci Cavolo Faccio lo stesso percorso di prima Ehm Ci sono altri lampioni così Qui spostarsi Ok è abbastanza lunga come cosa Però si può fare No Madonna Oddio Per un millimetro Ok Ehm Madonna Gioro regà È peggio questo Che i parkour di minecraft Magogna Prendilo Sì Ce l'abbiamo fatta Madonna Vuoi parkour E dei regali strani Ma perché cazzo Vuoi vendere le cose così in alto Cioè come fa la gente normale A prenderlo Venga Continua a ballare Venga Mentre io faccio il suo lavoro Lei balla Ok Va bene L'ultimo lavoro signori L'ultimo lavoro Dobbiamo andare nel game store Ehm E sconfiggere il black knight Bisogna tipo prendere una spada Che ha No Lei non ha capito Che io sono Oddio Ma che cazzo è successo Ok Provate a prendere la coca cola Cioè non so che cazzo di vita sia Ah Non Ma che cazzo Oddio Come ho fatto Non lo so Andiamo Oddio Questa bibita Oddio Non l'ho fatta apposta Giuro Andiamo a portare l'ultimo regalo Sì L'ho uccisa Così abbiamo finito completamente tutto il gioco Grazie mille signori Per essere stati Nel video fino adesso Ci vediamo in un prossimo No in realtà è in live su Twitch alle 21 Ragazzi di domenica E niente Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi